Vedo in voi le scendidelle del Vatino. Vedo in voi le scendide 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 del Vatino. E' lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. E' lui la bellezza che tanto vi attrae. E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. C'è un proverbio i polacco, z jakim se stai, z takim se stai. Vuol dire che tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Così ritorno ringiovanito.